Iniziamo tra pochi minuti la seconda conferenza del ciclo che è collegata a HumanPlus. Come vi dicevo la scorsa volta, la chiave di lettura di queste conferenze è sostenibilità e una possibile declinazione del tema della sostenibilità riguarda le questioni ambientali. Per questo noi abbiamo chiesto a Lorenzo Ciccarese di regalarci una conferenza su questo tema. Faccio una piccola aggiunta. Nella costruzione del ciclo di conferenze di quest'anno noi abbiamo cercato di coinvolgere non solo i ricercatori delle Università di Roma, ma abbiamo giocato su una questione. Pochi sanno, spesso non lo sanno neanche i detti lavori, che Roma è la più grande concentrazione di università e centri di ricerca d'Italia e una delle più grandi d'Europa. Si tratta di una massa critica che non dialoga con la città, è sganciata dalle dinamiche reali della città e spesso è una massa critica che non parla, diciamo così, le sue varie componenti non si parlano. Questo mi sembra, ed è una perdita per la città e per questo mondo. Una delle cose che abbiamo fatto con queste conferenze è quella di far parlare i vari mondi che stanno dentro questo gigantesco laboratorio che è presente nella città di Roma. Ciccarese fa parte del lavoro per l'ISPRA che è uno di questi mondi che sta dentro la città di Roma, io sono contentissimo che lui abbia accettato questo invito. Vai e io mi siedo ordinatamente tra il pubblico. Ok, grazie tante, grazie per la presentazione, grazie per l'invito, grazie soprattutto a voi per partecipare a questa conferenza in cui cercherò di introdurre questo tema che è abbastanza nuovo, non di facile comprensione per il grande pubblico ma molto molto affascinante sia dal punto di vista scientifico sia anche politico, politico negoziale per la geopolitica in particolare che è questo concetto dei planetary boundaries in inglese o dei confini planetari anche se questa è una traduzione che non esprime esattamente il concetto che c'è nella testa di quelli che hanno coniato questa espressione. C'è un problema con PowerPoint. Vabbè, intanto vado avanti con questo concetto dei planetary boundaries. Tutto inizia nel 2009 quando è stato pubblicato un articolo a firma di un gruppo di ricercatori scienziati raffinatissimi alcuni molto noti, per cui Paul Crotzen, che molti di voi ricorderanno per essere stato un po' il teorico dell'alterazione del ciclo dell'ozono che ha portato poi negli anni alla formazione del buco dell'ozono negli strati alti dell'atmosfera, inizialmente nel polo nord, poi anche nella parte sud del polo. Grazie a tutti. Abbiamo fatto le prove prima che funzionava? Grazie. 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 Vado qua, questa? Ok. Ok, questa è... è la parte. Ok. 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 Ok, allora riprendiamo da capo. Questa è la copertina di questo articolo apparso su Nature nel 2009. Come vedete questo gruppo abbastanza nutrito di scienziati, fra cui, ripeto, Krutzen, ma poi altri molto noti, fra cui James Hansen, che è stato a lungo direttore di un istituto di ricerca, Goddard Space, istituto della NASA, che all'indomani dell'accordo di Parigi disse in maniera molto chiara e trasparente che quell'accordo era una truffa. E lo poteva ben dire anche per via dei suoi studi fatti in precedenza, che aveva portato, fra l'altro, all'elaborazione di questo documento sui planetary boundaries. Fra gli altri autori, sicuramente alcuni di voi ricorderanno, Hans Joachim Schoenhuber, che è, tra l'altro, uno scienziato raffinatissimo, sociologo, direttore di un istituto di ricerca sui cambiamenti climatici, che è stato uno dei principali estensori dell'enciclica papale, tra l'altro amante dell'Italia, insomma, scienziato raffinatissimo. Insomma, che cosa dicono questi scienziati in questo primo documento? Qui vedete questa evoluzione della concentrazione di un isotopo dell'ossigeno, l'ossigeno 18, che, secondo i paleoclimatologi, è un buon indicatore dell'evoluzione dell'andamento climatico nel corso del secolo. Come vedete, negli ultimi centomila anni c'è stato un clima abbastanza mosso, che ha portato a periodi di glaciazioni, interglaciazioni, postglaciazioni, eccetera, tranne la parte cerchiata in rosso sulla destra, che i geologi chiamano Olocene, durante il quale il sistema climatico è stato sufficientemente stabile, pur con delle fluttuazioni comunque contenute. Questo periodo è iniziato circa 11.000-12.000 anni fa, l'Olocene appunto, ed è il periodo che coincide con l'invenzione dell'agricoltura, quello che Brodell chiama l'alba della civiltà. Con l'agricoltura in effetti è iniziata a fiorire la civiltà, da ogni punto di vista è iniziata con la domesticazione delle specie animali, quindi bovini, equini, suini, eccetera, e poi domesticazioni di specie vegetali, prima di tutto cereali, leguminose, ed altre specie ancora, che hanno portato col tempo, attraverso vari percorsi nel corso degli anni, a costruire i fondamenti e poi il fiorire delle società, fiorire sia economico, culturale e via dicendo. Quindi questo sistema è stato abbastanza stabile e in questo periodo l'agricoltura, come tutti gli altri settori produttivi, hanno inciso su questi equilibri, però in maniera appena percettibile. Qui abbiamo un esempio quasi bucolico di come si svolgeva l'agricoltura e come si è svolta per millenni, dove il fulcro centrale era la fertilizzazione naturale e il prelevare dal suolo, dagli ecosistemi, non più di quanto fosse possibile. Questa era una sapienza degli agricoltori dell'epoca. Se non che, andando un po' velocemente negli anni, è arrivata questa macchina. Questo è un prototipo del British Museum della macchina a vapore. Quindi il 1769, l'anno in cui è stata brevettata la macchina a vapore. E questo è considerato un po' lo spartiacque delle trasformazioni della società e anche le trasformazioni di questi cicli biogeofisici di carattere globale. Naturalmente non tutto è avvenuto in maniera rapida, ma l'invenzione della macchina a vapore, l'introduzione della macchina a vapore, ha segnato l'inizio della rivoluzione industriale, della prima rivoluzione industriale, ma anche della rivoluzione agricola. Questi concetti che ritorno delle enclosures, delle proprietà private, che hanno portato ad un'alterazione del modo di gestire il territorio. Sono questi gli anni in cui inizia il disboscamento su grande scala, la messa a cultura di ampie estensioni di territorio, milioni e milioni di etteri di territorio che vengono trasformate da un uso naturale o seminaturale ad un uso agricolo sempre più intensivo nel corso degli anni. Finché per via della macchina a vapore, con l'evoluzione di queste macchine, siamo arrivati ad un uso veramente eccessivo di combustibili fossili. Quest'anno siamo arrivati ad un livello di immissione in atmosfera di 57 miliardi di tonnellate di anidride carbonica equivalente. È una quantità che si è appena attenuata nei ritmi di crescita rispetto agli anni precedenti, ma che continua a preoccupare perché sono quantitativi enormi che vengono aggiunti anno dopo anno all'atmosfera con degli effetti che noi tutti conosciamo. Il primo driver di questo aumento dell'uso delle fonti fossili di energia è ovviamente l'evoluzione della popolazione. Questo grafico l'ho preso dall'ultimo rapporto del Global Earth Outlook che è molto impressionante. Questo è quello che è successo negli ultimi 10.000 anni. Vedete che un aumento esponenziale effettivo della popolazione si ha proprio in coincidenza con la seconda metà del XVIII secolo. Naturalmente sono cambiati anche gli standard di vita, di consumi di gran parte della popolazione. Questa è una foto fatta a Pechino. Ci sono ormai decine e decine di megalopoli che versano nella stessa condizione di elevati livelli di inquinamento perché all'improvviso hanno visto aumentare notevolmente il livello delle emissioni. E questa è anche un'altra curva interessante che è simmetrica rispetto alle curve che abbiamo visto prima che riguarda l'uso dei combustibili fossili in cui vediamo che la popolazione che vive sulla biomassa è rimasta presto che costante mentre si è andata via via aggiungendo quella che vive, diciamo così, o che si nutre di carbone, poi di olio e ultimo di gas naturale. Questa immagine l'ho presa da un sito che vi consiglio vivamente di visitare innanzitutto perché ha rischiato di essere chiuso dall'ultima amministrazione americana e soprattutto perché è fonte preziosissima di informazioni, dati, notizie aggiornatissime fra cui il livello di concentrazione di questo gas di serra, la CO2 che è il principale gas di serra ma non è l'unico, nel mese di febbraio. Siamo arrivati a 408 parti per milione una cifra che è il 40% superiore rispetto a quella registrata agli inizi dell'era industriale. molti della mia età ricorderanno che la concentrazione di atmosfera di questo gas era di circa 280 parti per milione, siamo arrivati a 408. L'attuale ritmo di crescita è di due parti per milione. Questo è un dato davvero preoccupante in continua crescita che è un valore molto al di sopra di uno dei confini planetari di cui vi parlerò. Ecco, siamo al di sopra di questo confine che secondo Jim Hansen è di 350 parti per milione siamo abbondantemente sopra, bisogna capire come recuperare, rientrare in questo confine e soprattutto capire come fare e in che tempi farlo. Naturalmente la CO2 non è il solo gas di serra ad aumentare di concentrazione, ve ne sono altri, qui abbiamo per esempio il metano, gli ossidi di azoto e poi altri gas di origine industriale emessi direttamente dall'industria, delle fabbriche che hanno tra l'altro un potere di riscaldamento notevolmente superiore ad una singola molecola di CO2. Nel caso del metano fino a 40 volte, nel caso di gas industriale fino a migliaia di volte. Quindi pur essendo emessi in dosi più basse rispetto a quelle dell'anidride carbonica, queste hanno comunque un potere riscaldante molto molto alto e molto molto incisivo. Questa è un'immagine che dà un'idea anche un po' della geopolitica delle emissioni. Il 2008 è stato l'anno in cui per la prima volta la Cina ha superato gli Stati Uniti per livelli di emissione di gas di serra. Questo è il 2008, l'ultimo dato non ancora pubblico, ufficiale, dice che le emissioni della Cina sono circa doppie rispetto a quelle degli Stati Uniti. Sono cresciute intanto anche le emissioni di paesi in via di sviluppo come India, Brasile, Sud Africa ed altri paesi emergenti che cominciano ad assaporare adesso questa fase dello sviluppo industriale che abbiamo visto. Quindi gli effetti di questo accumulo di gas di serra sono evidenti e questo è uno dei primi, il primo ciclo di carattere globale che è stato alterato dalle attività umane, appunto i cambiamenti climatici. Cioè le emissioni di gas di serra provocando l'effetto serra provocano un riscaldamento dell'atmosfera con degli effetti che ormai immagino tutti voi qui conosciate che riguardano per esempio lo scioglimento dei ghiacciai alpini delle nostre Alpi ma anche dei principali rilievi del pianeta e questo è solo l'inizio perché questo è quello che è successo finora quindi lo scioglimento dei ghiacciai alpini, delle calotte polari e poi ancora una serie crescente sia per numero sia per intensità di climatic streams, come li chiama l'IPCC è avvenuto solo perché c'è stato l'aumento di 0,9,1 grado centigrado a scala globale. Qui abbiamo alcuni dati che riguardano il riscaldamento globale nel 2017 sulle varie aree del pianeta perché ovviamente questo trend non è omogeneo identico su tutte le aree, su tutte le regioni del pianeta ci sono delle regioni in cui questo riscaldamento è più evidente più importante mentre in altri lo è meno comunque complessivamente a scala globale c'è stato finora dall'inizio dell'era industriale un riscaldamento di un grado centigrado rispetto a 14,5 circa temperatura media quindi non inganni il fatto che sia aumentata di solo un grado centigrado percentualmente questa è una trasformazione importantissima questa è un'immagine diciamo iconica degli impatti di cambiamenti climatici questo è New Orleans nel 2005 quando morirono centinaia di persone miliardi di danni ma dopo New Orleans ci sono state decine di eventi centinaia di eventi come questo solo non se ne è parlato ma che hanno interessato per esempio regioni del sud-est asiatico dell'America centrale con altrettanti danni e morti di persone e questo come si diceva non è che un inizio purtroppo perché gli scenari che sono presentati dagli scienziati dell'IPCC prevedono se continuiamo ad emettere gas di serra e a deforestare questo è un altro concetto di cui parlerò dopo all'attuale livello rischiamo di avere riscaldamenti fino a 5-6 gradi centigradi conseguenze inimmaginabili oppure sono immaginabili ma è meglio non raccontare perché ci sarà non solamente un aumento della temperatura media globale dei aumenti di temperature regionali che si manifesteranno in alcune regioni piuttosto che in altre ma ovviamente ci sarà anche un'alterazione del regime delle piogge dei venti anche dell'intensità luminosa questo non lo dico questo è quello che potrà succedere secondo la NASA in termini di riduzione del volume del ghiaccio artico ma ci sono molte preoccupazioni anche ovviamente per l'altro polo al sud e questo sempre secondo il quinto rapporto dell'IPCC in attesa che venga pubblicato il sesto sono gli scenari che prevedono un innalzamento del livello degli oceani di 80 centimetri fino anche a un metro potete immaginare che cosa questo possa significare per molte città che vivono in città costiere alcune megalopoli da New York a tantissime altre che cosa possa significare l'aumento di un metro del livello del mare ok quindi questi sono i cambiamenti climatici il primo di questi processi fisici di carattere globale che sono state alterate dall'attività umana quindi giustamente diciamo i cambiamenti climatici sono un po' il dominus di questi grandi problemi ambientali ma ve ne sono altri non meno preoccupanti di cui però si parla poco anche perché sono di più difficile comprensione questa è un'altra macchina che al pari della macchina a vapore ha determinato una trasformazione del nostro modo di vivere ed è quella che usa il metodo Haber-Bosch per la sintesi di nitrato d'ammonio a partire di azoto molecolare atmosferico sapete che l'azoto è presente in atmosfera in percentuali elevatissime fino al 78% con questo metodo è possibile dagli inizi del secolo scorso produrre l'ammoniaca che è la molecola di base e poi produrre i fertilizzanti quindi l'agricoltura l'inizio e la seconda rivoluzione agricola ha beneficiato moltissimo naturalmente di questo metodo perché la possibilità di utilizzare invece che il letame per ridare nutrienti e fertilità naturale ai suoli è stato utilizzato con cime di fertilizzanti di sintesi ha portato ad un aumento molto significativo delle produzioni in ogni area del globo qui abbiamo alcuni esempi non soffermatevi sulle quantità l'importante è vedere i trend che cosa è successo dal 1970 al 2010 in ogni area del pianeta naturalmente questo porta una serie di problemi di impatti di effetti sull'ambiente naturale sui suoli sulle acque sull'atmosfera e anche sulla salute delle persone e anche della vita selvatica e qui abbiamo alcuni dati che danno un'idea dell'andamento dell'uso dei prodotti fertilizzanti in agricoltura naturalmente l'uso di azoto e fosforo che viene utilizzato in agricoltura altera in maniera davvero significativa i flussi naturali di questi elementi dall'atmosfera verso la biosfera e gli oceani e qui abbiamo alcune conseguenze dove vedete nella mappa a sinistra le aree costiere in cui ci sono delle condizioni di carenze di ossigeno nell'atmosfera scusate negli oceani che sono diciamo la partenza per l'avvio dei processi di eutrofizzazione un fenomeno che interessa ormai varie aree del pianeta nella parte in alto abbiamo il goffo del messico dove probabilmente le condizioni sono peggiori che in altre ma abbiamo problemi anche nel black sea nel mar nero e poi anche questa immagine in basso in prossimità di di houston e ancora un altro problema ciclo dell'ozono che d'altra parte anche una bella storia di successo a scala internazionale il primo esempio in cui il multilateralismo un accordo in cui tutti i paesi hanno messo del proprio per risolverlo ha portato a dei risultati fortunatamente qualche anno fa è stato dichiarato che il buco dell'ozono si era anche se non completamente richiuso tutto questo grazie all'accordo al protocollo di Montreal che ha messo al bando quelle sostanze che in qualche modo reagivano con l'ozono riducendone lo strato lo spessore negli strati più alti con le conseguenze che immagino voi conosciate che riguardano soprattutto alla penetrazione di raggi ultratioletti con effetti anche in questo caso riconosciuti e devastanti tra l'altro l'anno scorso è uscito invece un articolo su PNAS Proceedings of National Academy of Sciences che dice che sono ritornati dei problemi sul buco dell'ozono e questo per ricordare che bisogna essere sempre vigili e che una volta il problema sembra risolto comunque possono ritornare quindi poi passiamo al quarto ciclo bio-geofisico globale che è stato alterato che è quello che riguarda l'inquinamento chimico e il rilascio di nuove entità che riguardano per esempio l'uso dei pesticidi questa è una mappa che abbiamo prodotto all'interno del nostro istituto l'ISPRA attraverso la rete di monitoraggio che abbiamo costituito anche grazie alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente da cui si vede che in sostanza che gran parte delle acque sia profonde sia superficiali sono contaminate con livelli in alcuni casi al di sopra degli standard previsti dai regolamenti e dalle normative di per esempio in questi casi di fitofarmaci i campioni le analisi svuote sui campioni delle acque sia superficiali sia profonde hanno rilevato la presenza di almeno 220 sostanze molecole diverse di pesticidi ma quello che più preoccupa sono i cosiddetti cataboliti perché di alcune sostanze si conoscono pressa poco gli effetti sulla salute umana sulla salute animale e gli impatti che hanno sull'ambiente in generale ma sui cataboliti cioè sulle sostanze che vengono prodotte a seguito della degradazione delle molecole iniziali non sappiamo nulla spesso non sappiamo neanche come individuarle come cercarle attraverso i test che abbiamo a disposizione ma ancora meno sappiamo sugli effetti sulla salute umana qualche anno fa aveva fatto scalpore questo programma televisiva che aveva riportato presenze di cocaina di ansiolitici antitumorali oppure di detergenti e via dicendo e questa cosa aveva fatto realmente impressione questa è una delle nuove frontiere come si dice un emerging issue che va considerato anche con molta molta attenzione anche considerando il livello elevato e diffuso di concentrazione di queste sostanze nell'ambiente tra l'altro i pesticidi questo è un altro studio che abbiamo fatto in Ispra sono probabilmente con molta probabilità una delle principali cause della moria delle api e le api questo serve per introdurre anche un nuovo concetto su quello che vengono chiamati servizi ecosistemici sul ruolo della biodiversità l'importanza della biodiversità che è importante per sé ma anche per via dei servizi che forniscono all'umanità alle economie dei vari paesi qualche anno fa due anni fa la piattaforma che si chiama TEB di Economics of Ecosystems Services and Biodiversity TEB ha fatto una valutazione del valore delle api come impollinatori ed è venuta fuori una stima davvero come dire grossa elevata circa 100 miliardi di dollari all'anno quindi la scomparsa delle api che è un motivo di preoccupazione reale come di altri impollinatori potrebbe portare ad una riduzione considerevole della produttività di molte culture sia erbace sia arbore quindi sia sui seminativi sia sui frutteti per intenderci e la causa una delle cause secondo la letteratura disponibile rappresentata dai erbicidi e in modo particolare dagli erbicidi quinto ciclo dei nove che sono stati individuati da questo gruppo di scienziati della prima pubblicazione su Nature è il carico di aerosolo atmosferico e poi ancora abbiamo problemi gravi sull'acidificazione degli oceani quindi l'alterazione del pH dell'acidità dei mari che producono effetti devastanti non solo sugli ecosistemi marini oceanici prima fra tutti le barriere coralline ma poi anche sulle popolazioni delle varie specie qui abbiamo un esempio si contano ormai in numero sempre crescente queste morie dovute all'acidificazione degli oceani e poi ancora uno settimo problema grave che riguarda la trasformazione di uso del territorio allora quando si pensa alla trasformazione di uso del territorio la mente va immediatamente alla deforestazione sappiamo la deforestazione interessa circa 15 milioni di ettari l'anno per darvi un'idea 15 milioni di ettari è circa metà del territorio nazionale è come se metà del territorio nazionale fatto tutto di foreste scomparisse dalla faccia della terra naturalmente questo ha delle conseguenze importanti sulla biodiversità perché gran parte di questi ecosistemi forse si vede qui questa immagine che vengono distrutti sono situati nella fascia equatoriale e subequatoriale dove gli ecosistemi i biomi che lì sono ospitati sono il ricettacolo più importante di biodiversità di specie molto spesso neanche mai studiate neanche mai catalogate e questo è davvero doloroso e quindi questa è una mappa di quello che succede alla scala globale dove vedete le parti in rosso sono le aree in cui c'è una perdita netta di foresti di superficie forestali il Brasile anche se c'è stato un miglioramento negli anni all'inizio degli anni 2000 è ritornato a ritmi elevati di deforestazione è il primo paese per superficie deforestata seguita dal Congo dall'Indonesia Papa New Guinea e altri paesi del sud-est asiatico mentre invece come vedete nelle parti in blu gli Stati Uniti insieme all'Europa del nord e anche dell'Europa continentale ci sono degli aumenti della superficie forestale questo è un fenomeno che riguarda anche l'Italia sapete che dall'inizio del 1900 a oggi la superficie forestale è pressoché raddoppiata è passata da 5 milioni a oltre 10 milioni e 8 forse 11 milioni di ettari e questo è senz'altro positivo in termini di naturalità perché le foreste sono un ecosistema che sicuramente è più ricco in termini di biodiversità rispetto ad aree agricole o ad aree che hanno altre destinazioni di uso del suolo però questo comporta anche qualche problema per esempio in termini di non gestione sono in molti a dire che gli elevati livelli di incendio che sono ovviamente di natura dolosa per il 100% dei casi ma sono alimentati favoriti anche dal fatto che gran parte di queste foreste sono assolutamente abbandonate e non gestite ok quindi se per Italia la deforestazione è un problema è un problema invece il consumo di suolo anche questo è un nostro importante cavallo di battaglia per noi di Ispra e questo del monitoraggio del consumo di suolo su tutto il territorio nazionale l'Italia insieme a Gran Bretagna ma ancora di più Olanda e Belgio è il paese in cui si consuma più suolo più suolo viene cementificato come dice il mio collega Munafo consumiamo circa 7 metri quadri al secondo di suolo che è una cifra spaventosa che si concentra soprattutto nella pianura padana e in modo particolare nel centro del sud dell'Italia lungo le aree costiere qui è un'immagine di uno studio prodotto all'università di Wageningen in cui si vede per esempio che nella tabella A c'è una riduzione notevole delle aree agricole sappiamo che l'abbandono rurale la crisi dell'agricoltura interessa particolarmente il nostro paese negli ultimi trent'anni abbiamo perso circa 3 milioni di ettari di superficie agricole che sono diventato altro sono diventate in gran parte aree forestali ma sono diventate anche capannoni autostrade e ogni altro tipo di infrastruttura mentre invece nella parte nella tabella E non so se si riesce a vedere abbiamo dei dati che riguardano appunto l'aumento della superficie forestale mentre nell'ultima tabella in basso quella F si vede anche l'Italia è hotspot di urbanizzazione di cementificazione si vede poco dalla dimensione della mappa ma anche per dimostrare che essa si concentra in modo particolare lungo i litorali e poi ancora il consumo di acqua dolce e l'alterazione del ciclo dell'acqua qui abbiamo alcuni dati alcune immagini riprese da satellite che dicono che gran parte degli acquiferi delle acque sotterranee del pianeta degli Stati Uniti ma di ogni area del globo vengono saccheggiati ad un ritmo maggiore rispetto alla capacità di ricarica e quindi anche in questo caso siamo al di là di ogni ragionevole confine di uso di questa risorsa naturale che è rappresentata dall'acqua e poi scusate questa immagine cruenta il mio collega mi aveva suggerito anche di toglierla ma non l'ho fatto in tempo ed è rimasta lì e questo è quello che succede in alcuni paesi sia africani ma anche del sud-est asiatico dove molti primati vengono ancora considerati bushmeat carne selvaggina e questa è una delle cause della riduzione della popolazione di queste specie molte specie di primati sono a rischio di estinzione come a rischio di estinzione sono diverse decine e decine di specie simbolo dal rinoceronte nero alla giraffa della lingua blu o altri animali appunto iconici degli sforzi che vengono fatti a scala internazionale per difendere la biodiversità secondo molti studiosi qui abbiamo anche Piero Genovesi che ha partecipato a molti di questi studi che dicono che siamo entrati ormai nella sesta estinzione di massa dopo la quinta che ha portato 5,4 milioni di anni fa alla distruzione alla scomparsa dei dinosauri stiamo stiamo distruggendo specie ad un ritmo che è da cento a mille volte superiore rispetto al rumore di fondo diciamo a quello che ci è consentito e questo non va assolutamente bene perché voglio ripetere le specie vegetali la biodiversità gli ecosistemi gli habitat tutto quello che costituisce il capitale naturale va difeso per sé per quello che è ogni specie singola è importante ma se questo non riusciamo a capirlo in maniera capillare almeno siamo consapevoli che la scomparsa di ecosistemi la perdita di biodiversità è diciamo la causa principale poi della perdita delle economie e dei vari paesi e quindi la perdita di biodiversità naturalmente non è solo legata alla distruzione degli habitat o al bracconaggio ci sono altre cause emergenti come appunto questa dell'introduzione di specie aliene invasive è un fenomeno che riguarda anche l'Italia che in Ispra monitoriamo e questa è una tendenza di quello che è successo in Italia dall'inizio del secolo scorso ad oggi dove come potete vedere c'è un trend in aumento e questo riguarda sia le specie animali sia le specie vegetali ok quindi questa è un po' la disamina dei nove cicli biogeofisici di carattere globale che sono stati alterati dall'attività umane allora questo lavoro che ho presentato all'avvio di questa mia conferenza ha innanzitutto individuato quali sono questi cicli che sono importanti per sé e per il destino stesso dell'umanità e poi lo sforzo successivo forse più importante è quello di aver definito dei confini dei confini che sono come vedete nelle aree blu e poi ancora quella successiva sentiate con le fasce rosse le fasce blu le fasce rosse sono come dire separate da questo space safe operating space questo spazio operativo di sicurezza ma come vedete per alcuni di questi nove cicli globali siamo andati al di là dello spazio di sicurezza abbiamo invaso lo spazio di insicurezza e forse il ciclo messo peggio di ogni altro è proprio quello che viene chiamato da questi scienziati biological integrity quindi dell'integrità biologica integrità rispetto all'entità della diversità biologica che avevamo appunto all'inizio dell'era industriale quindi stiamo perdendo specie stiamo perdendo habitat biomassa o di altro indicatore che rivela lo stato della biodiversità segna insomma dati molto molto preoccupanti questa è la stessa immagine che forse è più evidente e qui viene il punto che questa forse è la rappresentazione più importante anche dal punto di vista politico più che scientifico dove come potete vedere c'è al centro di questo schema l'integrità biologica e poi intorno gli altri otto cicli che sono stati individuati da questi scienziati e questa immagine dice che tutti questi cicli sono fra loro interconnessi prendendo per esempio l'integrità biologica e i cambiamenti climatici e le relazioni che si stabiliscono fra i due è evidente che i cambiamenti climatici attraverso l'aumento della temperatura oppure la severità e il numero degli eventi estremi o delle ondate di calore di siccità eccetera ha effetti impatti profondi sulla biodiversità in termini per esempio di produttività delle culture agrarie oppure di alterazione dei cicli fenologici anticipo della fioritura posticipo della caduta delle foglie o della formazione delle gemme e questo naturalmente d'altra parte però le trasformazioni del suolo la perdita di biodiversità la perdita di foreste ha un effetto sui cambiamenti climatici vi ricordavo prima che perdiamo ogni anno circa 15 milioni di ettari di foreste questo significa in termini di gas di serra circa il 15% delle emissioni globali perché quando un ettaro di foresta pluviale viene distrutta per fare posto a un ettaro di soia o a pascolo di bovini vengono immediatamente liberati in atmosfera 200-300 tonnellate di CO2 ad ettaro quindi moltiplicate questo valore per il dato medio della deforestazione a scala globale ottenete delle cifre spaventose ma oltre a deforestazione un altro dato importante ma spesso trascurato è quello della degradazione delle foreste quindi entrambe le cose contribuiscono per il 15% circa alle emissioni di gas di serra a scala globale se a queste poi aggiungiamo l'11-12% che provengono dal settore agricolo e questo è un dato pubblicato di recente dalla FAO di Roma noi vedremo che il settore territoriale land-based contribuisce per un quarto alle emissioni globali di gas di serra il settore agricolo è un settore fortemente additato per le responsabilità che hanno rispetto ai cambiamenti climatici rispetto alla perdita di biodiversità alle alterazioni del ciclo della zona del fosforo e poi ancora del carico di aerosol in atmosfera non c'è uno di questi nove cicli bio-geofisici in cui l'agricoltura non ha un ruolo importante e questo è un segnale forte che va dato ai responsabili della politica non solo italiana ma a scala globale e poi anche decisori politici di scala europea naturalmente ci sono molti sforzi molti indirizzi per cercare di ridurre gli impatti dell'agricoltura per renderla più sostenibile poi vedremo anche qualche caso di successo e qui abbiamo ancora per parlare dei nessi delle relazioni fa cambiamenti climatici integrità biologica gli impatti che il riscaldamento globale sta avendo su diverse specie del nostro arco alpino e questo è un altro studio interessante anche per la geopolitica nel 2015 sempre su PNAS è stato pubblicato un articolo in cui i principali autori sono autori della NASA che dicono che la crisi siriana è legata e strettamente correlata alle alterazioni climatiche che si sono abbattute nei primi anni di questo secolo sulla cosiddetta mezzaluna fertile o quella che un tempo era la mezzaluna fertile dove è nata la civiltà perché lì è nata l'agricoltura e questo studio dice che un periodo di circa cinque anni di periodi prolungati di siccità sia invernale sia estiva ha prodotto una riduzione molto significativa delle produzioni di cereali in quell'area che ha determinato migrazioni di massa centinaia di migliaia di persone che si sono rifugiate nei grossi centri abitati alla ricerca di fortuna e questo ha acuito dei contrasti che evidentemente c'erano ma questo rapporto dice questa crisi ha avuto origine dai cambiamenti climatici poi a dire il vero c'è stato un altro studio pubblicato nel 2017 che mette in discussione questa ipotesi poi c'è stata un'altra risposta comunque questo è un altro grande tema di discussione cioè gli impatti dei cambiamenti climatici non solamente sull'ambiente ma indirettamente o anche direttamente poi sulle popolazioni sulle comunità sulle civiltà e anche sulle reazioni che ci si stabiliscono per esempio l'anno scorso è stata evitata una crisi fra Sudan Egitto e Somalia per via di una diga che doveva essere costruita a sud dell'Egitto perché questa diga doveva servire per compensare i deficit idrici dovuti a periodi estesi di siccità in quell'area il problema della fornitura di acqua sta diventando un caso di guerra in molte aree del globo e lo diventerà ancora di più questo lo diciamo qui lo dicono molti rapporti sia del ministro dell'interno americano russo e via dicendo ok quindi una volta individuati quali sono i principali processi di scala globale di scala planetaria a cui dobbiamo guardare il problema scientifico questo è molto stimolante molto interessante è capire qual è questo confine qual è la metrica di questi cicli per sé per ogni ciclo e anche in relazione agli altri allora per alcuni processi per esempio i cambiamenti climatici o la biodiversità o l'uso dell'acqua o l'uso di sostanze a base di azoto e fosforo in agricoltura questi limiti sono stati ben individuati c'è una certa come dire uniformità di veduta all'interno della comunità scientifica ripeto per i cambiamenti climatici questo limite è di 350 parti per milione mentre per la biodiversità si dice non perdere più di due specie per milione di specie conosciute all'anno mentre invece siamo a cento forse mille specie per milioni di specie conosciute e per altri per altri parametri come per esempio per il ciclo dell'azoto abbiamo questi dati abbiamo la possibilità di ragionare sui limiti da non superare il problema successivo è come fare lo scaling down si dice in gergo cioè come puoi trasferire queste competenze scientifiche queste conoscenze questi gridi d'allarme non superiamo più di così dobbiamo stare entro certi limiti per convincere la comunità internazionale poi le politiche a trovare anche degli accordi una multilateralità degli impegni e questo devo dire non è un periodo facile periodo il momento è stato probabilmente il 2009 con la conferenza di copenhagen dove c'era grandi aspettative era stato appena pubblicato il quarto rapporto di valutazione dell'IPCC Obama era stato appena insegnato il premio Nobel a dicembre prima primo mandato presidenziale e quindi c'era un'euforia una grande attenzione quello è stato il momento più propizio per proseguire intanto ad affrontare il problema dei cambiamenti climatici dopodiché c'è stato un percorso diverso un approccio diverso a questi grandi problemi ambientali ricordo nel 2009 sempre appena prima della conferenza di copenhagen è uscito su science un articolo che ha avuto una grande influenza che diceva sostanzialmente let the technology race begin quindi lasciamo che la corsa la tecnologia inizi e questo rapporto diceva in sostanza che il protocollo di Kyoto che aveva obbligato i paesi a ridurre di una certa quantità le emissioni rispetto ad un anno e con impegni da raggiungere entro una finestra in periodo temporale 2008 2012 aveva piegato lo sviluppo economico la capacità di ricerca e di innovazione e questo non andava bene per risolvere i problemi ambientali e questo è quello che diceva naturalmente quelli che avevano un approccio più tecnologico più tecnocratico magari un po' di verità di evidenza c'era in tutto questo solo che c'è stato anche un eccesso un eccessivo spostamento quasi un ripiego per evitare di affrontare davvero alla base i problemi tanto è vero che in quegli anni si è cominciato a parlare e a spingere molto sulla geo-ingegneria queste tecniche che consentono di catturare il carbonio già emesso oppure alcuni progetti anche insomma un po' bizzarri di lanciare specchi negli strati più alti della stratosfera per impedire che l'energia radiante entrasse nell'atmosfera oppure ancora e questo è assolutamente inconcepibile soprattutto per chi si occupa di conservazione della biodiversità di fertilizzare gli oceani perché attraverso la fertilizzazione sarebbe stato possibile un maggior sequestro di carbonio da parte degli organismi fotosintetizzanti con effetti però non chiari e ancora adesso insomma questa è un'idea non tramontata che viene proposta da diversi paesi per fortuna finora osteggiata nell'ambito della convenzione ONU sulla biodiversità quindi proprio nel 13 di questo mese è stata a Berlino questa conferenza in cui si è cercato di ragionare su come fare per rendere questo concetto che questo concetto dei planetary boundaries possa funzionare cioè come facciamo a riportare il livello della concentrazione di CO2 entro i 350 parti per milione come facciamo a ridurre il più possibile la perdita di specie e poi la perdita di specie è realmente l'indicatore giusto per ragionare in termini di conservazione della biodiversità alcuni propongono altri indicatori che sono per esempio la quantità di biomassa presente sul pianeta e quindi su ogni singolo stato si impegna a difendere una certa quantità di biomassa ma tutto il lavoro ancora teoretico da sviluppare e da fare anche molto interessante ripeto sia dal punto di vista scientifico sia negoziale ma anche immagino per 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 ogni membro della società civile la difficoltà nel fatto che alcuni cicli sono realmente globali come per esempio i cambiamenti climatici o la acidificazione degli oceani che non hanno confini non hanno bordi altri invece che hanno una natura più nazionale più regionale qui insomma una sintesi di quello che è successo a Parigi nel 2015 dove è stato deciso in Teralia di insomma assumere l'impegno di almeno l'impegno di stare al di sotto di 1,5 gradi centigradi di riscaldamento rispetto all'era industriale o almeno entro i due gradi centigradi sappiamo invece che questo limite difficilmente verrà osservato e già si corre ai ripari perché per fare questo c'è bisogno di decarbonizzare le società e bisogna farlo in maniera rapida e da subito naturalmente questo impegno per mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici di conservare la biodiversità di regolare il cicliazone e il fosforo eccetera eccetera si intrecciano con questo nuovo processo molto interessante che riguarda i Sustainable Development Goals cioè gli obiettivi di sviluppo sostenibile che sono stati approvati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015 che definiscono una serie di impegni per il 2030 l'Italia ha sottoscritto questo questa agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ma la cosa interessante è che in sostanza questi Sustainable Development Goals ereditano il percorso degli anni precedenti che si chiamava Millennium Development ok va bene insomma era un impegno per lo sviluppo del millennio e questa è una grafica del The Guardian molto interessante da cui si vede da questi sei obiettivi di sviluppo iniziale che erano più concentrati sulla dimensione economica e sociale la povertà la parità di genere eccetera c'è stata una declinazione in 17 nuovi obiettivi la gran parte dei quali hanno una dimensione profondamente ambientale e questo dal punto di vista insomma della centralità dell'ambiente nelle politiche è un fatto sensazionale perché viene riconosciuta la dimensione ambientale come un motore il fattore importante dello sviluppo economico e sociale delle società e quindi si parla di qualità negli ambienti urbani qualità delle acque riduzione dello spreco alimentare difesa della biodiversità dei cambiamenti climatici sono almeno nove gli obiettivi di sviluppo sostenibile del 17 che hanno una chiara dimensione ambientale l'Italia ha assunto questo impegno vedremo che cosa succederà nei prossimi anni quali saranno poi le azioni le misure le politiche reali per procedere verso questi obiettivi e soprattutto e questa è una cosa da non dimenticare l'impegno che l'Italia assumerà anche nei confronti di altri paesi che dovranno raggiungere questi obiettivi e poi per avviarmi alla parte conclusiva della mia presentazione voglio presentare anche poi dei casi di successo perché è possibile affrontare questi grandi problemi è possibile affrontarli in maniera integrata guardando in essi alle relazioni che ci sono fra di loro perché la comunità scientifica ha fornito abbastanza evidenza sia della gravità della situazione sia come questi problemi sono fra loro collegati e indicando anche le misure in questo senso l'esperienza dell'IPCC è molto molto importante l'IPCC viene spesso assunto come esempio paradigmatico di quello che deve essere la comunità scientifica che non deve essere rivolta al proprio successo personale oppure all'idea di approfondire un argomento e rimanere all'interno dei laboratori ma deve sempre più integrarsi con la comunità operare lavorare per curare l'interfaccia policy interface quindi fare policy support forte supporto alle politiche e gran parte di quegli autori che vi ho fatto vedere in precedenza hanno dedicato gran parte della loro vita a questo partecipando come autori o come fautori di queste attività che hanno una forte aderenza poi con con la vita concreta delle persone con le politiche e via dicendo e la stessa politica si è avvantaggiata molto voglio dire Hans Joachim Schoenuber per esempio è stata per molti anni principale consigliere della cancelliera Merkel e devo dire che la Germania in tutti questi anni si è distinta per la visione che ha avuto rispetto alle politiche ambientali molto più di altri paesi basta vedere i dati che riguardano lo sviluppo delle rinnovabili o le leggi sul consumo di suolo o leggi molto avanzate sul divieto dell'ingresso delle macchine in molti centri urbani e via dicendo volevo ok questa è una storia di successo italiana che riguarda l'arricoltura biologica anche se c'è qualche ombra che è quasi fisiologica rispetto alla dimensione che ha assunto l'Italia è insieme alla Spagna il primo paese europeo per superficie agricola utilizzata secondo il sistema biologico siamo arrivati a oltre l'11% della superficie agricola utilizzata abbiamo circa 70.000 operatori quindi 70.000 imprese che lavorano nel biologico e la cosa interessante è che una buona parte una buona fetta di questo popolo bio è fatta da gente che non ha assolutamente nessuna relazione generazionale con l'agricoltura e gente che si è formata in altri ambiti voglio farvi vedere questa storia di successo che mi ha autorizzato a farla vedere in questa conferenza una giovane donna vocata che ha deciso di avviare un'attività di alleamento zootecnico dove il principale obiettivo è quello del benessere degli animali allevati ed è diventata una bellissima storia di successo bio ma come questa ripeto ce ne sono migliaia e migliaia in Italia che sono servite soprattutto a rivitalizzare in un settore che altrimenti era destinato quasi al declino pensate poi tra l'altro che gran parte di queste aziende bio praticano anche altre attività collegate per esempio l'accoglienza quindi agriturismo oppure educazione ambientale e via dicendo quindi questa è una bella realtà che va sostenuta anche se in passato insomma c'è stato qualche scandalo ma questo ripeto è quasi fisiologico è come dire la moda italiana fa schifo perché ci sono delle contraffazioni quindi voglio dire abbiamo una storia di successo bella bisogna difenderla perché poi c'è anche un'ampia evidenza scientifica che ci dimostra gli impatti positivi concreti sulla biodiversità su tanti gruppi tassonomici e poi l'altra storia di successo anche se spesso anche questa con qualche ombra riguarda la superficie sottoposta a forme di tutela grazie alla istituzione di parchi nazionali o alla direttiva habitat e uccelli quindi circa un quinto del territorio nazionale sottoposto a forma di protezione ed è interessante anche la sovrapposizione di queste aree protette con molti siti culturali siti archeologici che servono solo a dare importanza e rilievo e sinergia e forza a queste forme di tutela un paio di settimane fa siamo stati a Ischia per parlare di questa cosa quindi della sinergia possibile fra forme di tutela e beni culturali e dei beni ambientali e naturali questo non doveva essere qui ma solo per dire che poi la conservazione della biodiversità la salvaguardia dell'ambiente è necessaria e fondamentale per ogni settore economico e qui voglio riportare alcuni esempi a proposito del cosiddetto adattamento ai cambiamenti climatici nel gergo adattamento significa aggiustamento sintonizzazione dei sistemi economici di una comunità di un paese di un territorio ai cambiamenti climatici che stanno avvenendo cioè per contrastare i cambiamenti climatici c'è bisogno ovviamente di ridurre l'emissione di gas di serra e contemporaneamente lavorare a queste forme di adattamento come ci si adatta allora naturalmente come dire l'opportunità di fare adattamento è diventato molto molto attraente per molte imprese che vorranno riprodurre gli stessi schemi fare le cosiddette grey infrastructures cioè infrastrutture grigie cemento su cemento per adattarsi ai cambiamenti climatici per creare argini sbarramenti invasi dighe e roba di questo genere mentre invece ci sono in giro per il mondo e molte anche in Italia moltissime storie di successo che dimostrano come interventi di adattamento ai cambiamenti climatici come si dice in gergo ecosystem based oppure land based basate sul territorio abbiamo bellissimi esempi sul litorale di Sabaudia o lungo l'Adriatico in Puglia in Liguria e altrove bellissimi esempi di ricostituzione di ricostruzione come si dice adesso di restauro ecosistemico che sono vincenti sia sul dato della conservazione sia sull'adattamento dei cambiamenti climatici esiste abbastanza know-how soprattutto in Italia una ottima tradizione scientifica conoscitiva tecnica e tecnologica per fare questi interventi che sono molto più efficaci sono molto meno costosi rispetto agli altri sistemi invece che vengono come dire suggeriti per adattarsi ai cambiamenti climatici c'è uno studio del World Resources Institute che dice che in Italia ci sono circa 8,5 milioni di ettari quindi poco meno di un terzo del territorio nazionale che è disponibile per fare interventi di piccola scala come si dice in gergo i politici amano questa espressione di manutenzione del territorio di cura del territorio oppure ancora oltre a questi 8-5 milioni anche un milione di ettari di interventi su grande scala a scala mondiale sono disponibili circa 1,5 miliardi di ettari per fare interventi di questo tipo che possono essere possono diventare uno strumento importante anche per una rinascita economica di molte aree abbandonate abbiamo uno studio in Italia che dice che le aree protette i danni prodotti dal terremoto sono molto più basi rispetto alle aree non protette e questo deve far pensare deve far riflettere sull'importanza della protezione anche in questi termini e poi ancora oltre al sistema developing goals l'altra come dire dimensione su cui bisogna concordarsi per affrontare questi grandi temi ambientali e quelli dell'economia circolare qui voglio essere molto breve ma anche qui abbiamo centinaia e centinaia di belli esempi non voglio fare pubblicità gratuita per imprese voglio solo citare alcune qui brevemente questo progetto Orange Fiber che è un tessuto naturale prodotto dagli scarti di lavorazione delle arance e poi ancora questa di una ditta italiana che produce oggetti utilizzando prodotti di recupero e poi questa è una ditta americana invece che fa un'azione di marketing molto molto interessante che dice don't buy this jacket non comprate questa giacca e poi dice in sostanza questa giacca ha un'impronta ecologica tot produce queste emissioni bla 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 quindi se avete già un'altra giacca di questa marca venite in negozio se c'è la cerniera rotta la ripariamo e questo è diventato uno strumento importante di marketing che non riguarda solo questo tipo di produzioni ma per esempio una importante ditta che produce macchine per le TAC ha messo su un sistema di pooling di centri ospedalieri per utilizzare al meglio quella macchina che altrimenti non sarebbe acquistabile da una piccola comunità e via dicendo e poi qui davvero mi invio alla conclusione il fatto che la natura serve anche come ispirazione per nuove idee per nuove produzioni per nuove tecniche non abbiamo bisogno di tecnologie invasive ad alto tenore di emissione di carbonio in questo senso anche la natura ci può aiutare attraverso biomimicry o biomimica anche in Italia abbiamo degli ottimi esempi come in questo caso di questo materiale che cerca di mimare la capacità di filtraggio di torrenti di fiumi rispetto alle fonti inquinanti tra l'altro queste tecniche non sono così lontane da noi alcune sono già applicate come molti esempi di bioremediation come dice il mio amico Silli che vedo in sala la possibilità di utilizzare ecosistemi per fare il biorimedio di acque inquinate e contaminate con metalli pesanti o altre molecole di ogni tipo e qui c'è una frase di Johan Rockström che è uno degli autori di questo studio che poi ho dimenticato di dire è stato ripreso in un nuovo articolo nel 2015 che vi suggerisco davvero per chi non l'abbia ancora fatto di leggere che dice in sostanza che questo viaggio che abbiamo di fronte non è un ritorno nelle caverne è un viaggio invece ad alta tecnologia di benessere psicofisico di democrazia io ho aggiunto più ampio e diffuso e diffusa e di enormi molteplici benefici che vanno ben oltre il fatto di salvare il pianeta e infatti i paesi le nazioni i governi che hanno abbracciato questa idea come al solito i paesi scandinavi ma non solo per alcuni aspetti anche in fondo l'India e la Cina anche se continuano a proseguire nella stessa direzione fossile questa direzione l'hanno presa adesso mi viene in mente non so tanti bellissimi altri esempi anche nel settore della finanza l'Università di Edimburgo che per prima ha deciso di fare disinvestment di non investire in titoli in cui sono coinvolte imprese del fossile stessa cosa hanno fatto le reti delle comunità cattoliche che hanno anche in questo caso deciso di fare disinvestment sono iniziative di questo tipo queste sono le prime che mi vengono in mente insomma ci sono tante belle realtà tante belle evidenze tanti belli esempi di successo che vanno comunicati resi conosciuti e qui l'importanza dei media è davvero fondamentale vedo in sala Antonio Cianciullo di Repubblica che da decenni lavora su questo ha fatto di questo approccio un elemento cardine della sua attività ecco queste storie vanno raccontate vanno dette anche in opposizione a chi cerca di contrastare queste scelte queste direzioni e un'altra cosa invece anche abbastanza nuova interessante portato con me questo è un altro studio rispetto a quello che ho pubblicato qui questo si chiama The Significance of Meaning perché insomma questo gruppo di scienziati che si occupa di biodiversità hanno bisogno delle scienze umane e delle scienze sociali mi è capitato anche di recente facendo il lavoro di valutatore dei progetti comunitari di valutare una proposta di ricerca per la conservazione della biodiversità fatta prevalentemente da filosofi sociologi etnologi antropologi che in assoluto rivendicano un ruolo più importante all'interno di questi processi questo studio che è indicato qui questi autori dicono in sostanza che purtroppo finora il discorso sui cambiamenti climatici sulla biodiversità sul ciclo dell'azoto il consumo di suolo è stato appannaggio è stato un dominio delle scienze naturali e questo è andato a discapito di quella dimensione che forse è importante come l'altra cioè quella etnografica antropologica culturale sociale si parla molto di climate justice di giustizia sociale oppure di altri fenomeni di land grabbing di impossessamento di suoli di terreni di vaste aree a scapito di popolazioni native di tribù di migrazione interna dello stesso paese di conflitti eccetera ormai la questione dei cambiamenti climatici per ritornare al principe dei grandi problemi ambientali non può essere affrontata più dai climatologi devo dire qualche settimana fa in una conferenza ho sentito un climatologo di primaria importanza in Italia dire che i cambiamenti climatici non sono più importanti questo mi ha fatto un male al cuore perché non è importante per chi per te che non potrai più trovare motivi di interesse nel fare le ricerche che hai solitamente fatto ci sono altri problemi che sono le migrazioni la giustizia sociale oppure quali tecniche quali politiche quali strategie utilizzare insomma è un campo assolutamente aperto assolutamente insomma aperto e ancora insomma su cui bisogna lavorare molto in ogni senso ecco quindi e questa è davvero la mia ultima diapositiva mi dispiace molto per non aver lavorato all'ultimo rapporto di valutazione dell'IPCC soprattutto per non aver contribuito a concettualizzare questo schema per me è bellissimo che dà un po' l'idea di quello che deve essere il futuro e l'impegno anche di ognuno di noi cioè nella parte a sinistra di questo schema abbiamo il nostro pianeta che è sottoposto ad una serie di stressors che possono essere cambiamenti climatici possono essere la perdita di biodiversità i terremoti disastri naturali di ogni genere può essere la xylella qualsiasi cosa può agire a livello locale a livello regionale a livello globale ogni volta che interviene uno stressor di questo tipo è evidente che una comunità perde il suo stato di benessere e viene riportato in una direzione quella rossa più in basso a quel punto c'è decision points un punto di decisione cioè che si fa ok posso aspettare se aspetto però il destino è quello di andare ad un livello ancora più basso a quel punto posso ancora decidere posso decidere di aspettare ancora di essere inattivo oppure di agire allora noi siamo in uno di questi punti e possiamo agire possiamo agire perché abbiamo le competenze le conoscenze i saperi le cognizioni le consapevolezze necessarie certo queste non bastano mai sarebbe meglio averne di più sarebbe meglio che avere un governo che è decisamente ambientale oppure al Parlamento persone che mettono nel primo posto dell'agenda i cambiamenti climatici o l'agricoltura biologica però non è così ma quindi siamo sempre in un punto di agire ed è importante agire subito perché un ritardo una inazione rende più difficile quella che viene chiamata con un concetto abusato la resilienza e tra l'altro ritardare le azioni gli interventi rende questi anche più costosi e anche più difficili e più difficili e più difficili risultati di più difficile successo quindi questo è il momento di agire e bisogna agire con prontezza e con decisione grazie per l'attenzione mi chiamo Ronchetti sono medico per l'ambiente precedente della sezione di Roma mi congratulo per la sua relazione bellissima divisibile in tre parti chiaramente di cui l'ultima è propositiva e quell'altra dice che l'Italia va bene in qualche maniera ottimistica e però la prima fa vedere un cadavero steso e tanti chirurghi intorno pronti a fare degli interventi mentre il paziente sta decisamente morendo quindi siamo pessimisti io collaboro con l'ISPRA abbiamo scritto un articolo che dice i primati negativi ecologici l'Italia è in testa in Europa in moltissimi campi direi tutti quindi l'Italia non va bene l'ISPRA che ha protezione dell'ambiente ma non è una colpa noi tutti siamo delle persone che parlano a un uditorio che quando andrà via di qui non non ritiene non agisce se non quindi ci sono le forze politiche a cui ci siamo rivolti finora i grandi congressi internazionali eccetera che non funzionano le cose vanno peggio addirittura si nega che esista il problema climatico eccetera lei sa benissimo quindi che cosa dobbiamo fare qui oggi c'erano degli articoli io non parlo di politica di cose però un articolo di Grillo che diceva fermate il treno cioè la produzione industriale il nostro obiettivo di umanità negli ultimi diciamo 11.000 anni come ha detto lei era quello di dare vitto e alloggio al pianeta questo obiettivo è stato raggiunto noi siamo in grado di produrre beni e cibo sufficienti per i miliardi quanti siamo purché se li distribuisca un poco ma non è necessario continuare a produrre industrialmente macchine che nessuno potrà usare perché inquinano eccetera eccetera come non voglio dilungare quindi c'è bisogno di capire che noi dobbiamo fermare un certo tipo di produzione e riparare i danni che sono stati fatti con siccome non abbiamo più niente da fare le macchine fanno tutto al posto nostro possono fare tutto al posto nostro e bisogna farlo fare però le persone che dovrebbero lavorare nelle varie servizi sociali debbono riparare niente ma perché non facciamo dei dissalatori se la crisi della sicilità è così evidente e Israele vive con i dissalatori ed è prospero ed è fertile perché noi non possiamo pensare a una Sicilia a una Calabria eccetera pronta tra due anni tre anni con 300 milioni si fa un dissalatore vabbè io mi fermo grazie cerco di essere breve naturalmente ci sarebbe molto da discutere però i tempi dobbiamo rispettare comincio da dove lei ha finito c'è da fare molto si può fare molto faccio i complimenti alla sua brava esposizione all'ISPRA adesso c'è da disperare nella politica perché i politici hanno come problema First America gli emigranti a casa loro però non si dice che gli emigranti che scappano da dove abbiamo depredato i loro territori inquinati eccetera possiamo aiutarli a ritornare a casa loro se noi contribuiamo con tutte le tecnologie che abbiamo a salvare a utilizzare i loro territori cominciando dal nostro Nord Africa per esempio ricordo a lei che è uno scienziato che in Italia è noto nel 68 50 anni fa il club di Roma cioè dire le soluzioni non stanno nelle mani dei politici adesso cioè c'è c'è da disperare dai politici e da chi va a votare noi stessi noi stessi non andiamo a votare per salvare il pianeta ma per guardare i nostri interessi di pinco e pallino la pensione il job sack eccetera quindi bisogna far sì che i privati quelle azioni che lei ha fatto vedere la resilienza eccetera devono essere i privati a spodestare i politici che sono inetti e addirittura nocivi per l'ambiente cioè dire occorre far sì che i cittadini si diventino responsabili nelle loro scelte negli acquisti nei consumi e che quindi ci siano sempre più aziende guidate dagli scienziati che si ricostituiscono anche un nuovo club di Roma volto a salvare il pianeta come l'ISPRA e altro e poi diciamo una nota nelle planetary resilience perché non si è messo l'aumento della popolazione che incide per parecchio cioè dire se la popolazione continua a crescere così ma altro che crisi cioè rispetto alle altre specie perché se quell'immagine che ha fatto le vedere che è fatto vedere che è veramente orripilante di quelle due scimmiette che erano uccise vengono uccise da persone che le mangiano perché hanno bisogno di mangiarsi la carne vanno a cacciare eccetera che sono andate nelle foreste prima nelle foreste non ci andavano e quindi gli animali proliferavano quindi l'invasione dei territori delle foreste eccetera avviene perché aumenta la popolazione e da qualche parte devono andare quindi bisogna anche considerare questo elemento che è un po' impopolare questo della limitazione delle nascite grazie la mia risposta inizio dalla demografia o meglio dall'aumento della popolazione questo è un tema che appartiene più alla sovranità nazionale e quindi non è un argomento è un argomento tabù per molti motivi incluso quello religioso ma soprattutto è un argomento che non rientra diciamo negli accordi multilaterali perché è un argomento che rientra nelle politiche che appartengono alla sovranità nazionale è ovvio che l'aumento della popolazione e poi delle trasformazioni demografiche in genere sono il principale fattore del fatto che spingiamo i cicli al di là di certi confini la popolazione ormai ha raggiunto credo 7,5 miliardi sarebbero probabilmente 9 miliardi in 2050 questo è un argomento che però non va affrontato all'interno di questi consessi invece sulla prima parte della sua domanda io sono convinto che per trovare delle soluzioni c'è bisogno di un patto fra scienza politica e imprese perché le imprese in tutto questo sono importanti e attraverso la politica anche i cittadini che possono agire naturalmente con i propri comportamenti individuali con le scelte che fanno eccetera eccetera però ricordo una cosa vi pregherei di rileggere il Paris Agreement questo accordo di Parigi che è un testo straordinario in cui ogni parola ovviamente è stata pesata in cui rispetto agli accordi ai testi precedenti c'è un cambio di prospettiva in cui non c'è una decisione come si dice top down c'è le Nazioni Unite attraverso i governi che vi partecipano decidono di quanto deve essere l'impegno di riduzione delle emissioni c'è un accordo quasi volontario che da un lato può essere come dire può quasi indebolire gli impegni dall'altro però impegna più che le organizzazioni più che i governi quelli che vengono chiamati nel testo non state organizations le organizzazioni non statali e questo è fatto anche nella prospettiva che qualcuno intravedeva che a Washington cambiasse il gabinetto e questo è successo solo che a quel punto dopo l'impulso che è stato dato nelle amministrazioni precedenti verso la crescita verde verso lo sviluppo sostenibile a cui hanno aderito importantissime imprese insomma dall'impresa automobilistica a imprese elettriche a imprese di servizi anche imprese di servizi finanziari eccetera che sono raggruppate in un consorzio le quali hanno detto a noi non ci importa nulla a questo punto del cambio di politiche ambientali ormai abbiamo iniziato questa traiettoria e lì andiamo perché questo vuole il mercato e in questo senso è importante anche come dire il peso il ruolo dei cittadini che ovviamente possono incidere molto insomma nella scelta dei deputati o dei governi che poi vengono mandati a governare un paese però però diciamo che questi obiettivi questi questi target si possono raggiungere anche attraverso altri strumenti che non sono semplici come quelli tradizionali convenzionali delle normative sono importanti anche quelle ma insomma quando c'è poi la società civile le imprese i cittadini le associazioni dei consumatori che vanno in una certa direzione poi il resto diciamo può essere anche meno importante grazie grazie Lorenzo grazie grazie a te 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 grazie a te